buon pomeriggio lunedì 20 novembre ore 16.07 la diretta di stamattina è sparita non la troviamo più vabbè detto questo faccio una diretta al volo per questo articolo che lo tengo dentro da due giorni devo farlo dovevo farlo e per fortuna che era il migliore di chi parliamo di mario draghi questo signore gentile educato carino dietro di noi ve lo ricordate i condizionatori o la pace tutte quelle cose raccontate belle storielle no bene e per fortuna che era il migliore caro algoritmo so che non è facile per te accettare che qualcuno parli di mario draghi in tono satirico però non possiamo far altro che ridere perché se il migliore ci ha lasciato 5 miliardi di buco ogni tanto viene fuori qualche buco lasciato dal governo draghi bene e non sappiamo più a chi rivolgerci per avere qualcosa di decente in mano attendiamo attendo che veramente sia collegato qualcuno ma oggi è veramente una cosa indegna la diretta oggi è una cosa indegna non funziona niente 20 collegati 30 collegati chi ha milioni di follower fa 10 persone in diretta è una cosa folle vuol dire che non funziona l'algoritmo vuol dire che la piattaforma sta sta implodendo ciao rosanna ciao rosanna e vedo solo te buon pomeriggio non vedo altri collegati però hanno notizia importante vado al punto per quelli che si collegheranno dopo indifferita cosa ci ha lasciato in eredità il governo dei migliori guidato da mario draghi lo sapete il bilancio a guardar bene tutt'altro che positivo e attenzione pensavamo al re dei banchieri numero uno in europa invece mi sa che oltre alle tante polemiche sulla gestione della pandemia lo sappiamo benissimo consentenze che oggi stanno finalmente dando ragione a chi si è ribellato alle ingiuste imposizioni bene anche dal punto di vista economico il lasciato non è certo dei migliori caro mario draghi anzi come ha spiegato l'attestata la verità di recente è venuto allo scoperto l'ennesimo buco causato dai conti pubblici di quello esecutivo dell'esecutivo di mario draghi tanto voluto da tanti partiti di cosa stiamo parlando presto detto l'autostrada dei palchi tornerà al gruppo toto al quale la concessionaria è stata e la concessione perdonate mi è stata revocata nelle recente passato dal governo draghi per gravi inadempienze e fin qua i tribunali hanno dato torto all'ex premier e suoi ministri il governo meloni erediterà così 5 miliardini di euro di risarcementi ad avversari diretti interessati quindi tanto un applauso a draghi e un applauso a tutti quelli che dicevano il migliore abbiamo mario draghi il nostro salvatore un'ammazzata non da poco per i conti pubblici oltre al danno anche la beffa perché per limitare i danni di un esborso così importante la gestione dell'autostrada e tornerà ai vecchi proprietari quindi pensate che genialata è stata fatta draghi insomma non è riuscito a sottrarre al gruppo toto la gestione in compenso ha provocato l'ennesimo terremoto nella nelle casse dello stato casse che evidentemente lui questo è un dubbio lecce magari ci goda vedere che andiamo male no perché veramente mi fa pensare a questo perché ha provocato l'ennesimo terremoto nelle casse dello stato e non si tratta tra l'altro dell'unica rogna che ci ha lasciato il governo dei migliori vorrei ricordarlo che avevano la faccia tosta di chiamarlo il governo dei migliori ai posteri quindi attenzione cosa ci ha lasciato ancora il flop del governo draghi non è ormai non si contano più sono veramente tanti flop pensare che l'esempio ad esempio la famosa tassa sugli extra profitti ve la ricordate no delle imprese energetiche tutti gridavano grande draghi bravissimo tassa finalmente tassano gli extra profitti bene secondo l'ex premier avrebbero generato incassi pari a 11 miliardi ne sono arrivati provate a dire quanti non 10 non 9 non 8 non 7 non 6 non 5 non 4 non 3 ne sono arrivati 3 e lui diceva 11 ne sono arrivati 3 la norma era nata per alleggerire il peso delle bollette sulle tasche dei cittadini quindi sulle nostre tasche ma come è evidente qualcosa è andato storto e a rimetterci siamo noi italiani anzi direi molto diciamo molto storto altra partita aperta da draghi è stata quella delle perdite vi ricordate le perdite delle controllate del gas la snam la gse spinte dal governo a fare scorta di materia prima prima dello scopo della guerra in ucraina vi ricordate le frasi favolose di draghi o il condizionatore o la pace ok quando i prezzi erano alle stelle ci fece comprare tutto quello che potevano comprare il risultato un buco da 4 miliardi secondo la verità la quale poi va sommato in un ennesimo clamoroso autogol il super bonus reiterato da draghi in un momento in cui i conti pubblici erano già sotto sforzo quando parlo di draghi il mio cane abbaia a questo punto vi lascio con la baiata del mio cane vi saluto facciamo un applauso a draghi bravo bravissimo un economista incredibile il governo dei migliori che ci ha lasciato i migliori buchi della storia della repubblica veramente veramente ragazzi veramente continuate a fidarvi continuate a fidarvi dei migliori ciao a tutti buon pomeriggio speriamo che questa volta venga pubblicato che l'algoritmo vi chiederei di condividere proprio perché siamo pochi collegati proprio perché l'algoritmo fa il furbo oppure non funziona vi chiederei di condividere perché queste notizie devono essere ascoltate da tutti da tutti bisogna aprire le orecchie strurare le orecchie a quelli che hanno avuto le hanno avuto otturate di quelli abbagliati da draghi che parlava io me le ricordo le frasi di draghi che me le ricordo ve le ricordate bene vero non ti vaccinita male poi e poi ho il condizionatorio la pace la guerra è andata avanti all'ignoranza gioco vici ha vinto tutto quello che poteva giocare quindi draghi ciao ciao draghi buon pomeriggio a tutti ci sentiamo ore 19 diretta con tutte le notizie clamorose della giornata ore 19 qui sulla pagina e con il paragone punto it ciao a tutti luciana chiudiamo con ogni dubbio è lecito lo hanno mandato apposta assolutamente hanno mandato draghi apposta ogni dubbio è lecito ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti